Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di mister Ghettaunauteri. Prima di passare alle domande dei colleghi in sala passo la parola al direttore tecnico Marcello Carli. Prego direttore. Io faccio solo da apripista al mister augurandoli un grande benvenuto, insomma spero ci dia la grande mano a ritirarci su che non stiamo vivendo un momento particolarmente bello, quindi io sono solamente qui per per dargli un bel venuto e per dargli tutto il nostro supporto da qui a quando inizierà la prima partita e per noi diventerà veramente un inizio nuovo e quindi io faccio solamente l'accompagnatore, quindi auguro al mister veramente il meglio, lo ringrazio ad essere venuto qui da noi e niente, gli faccio un grande bocca al lupo. Bene, partiamo subito con le domande. Sonia Lantella, Otto Channel. Prego. Ben tornato mister. Come è stato l'impatto con la squadra? Quali sono state le prime risposte da parte dei giocatori? Praticamente a oggi abbiamo fatto cinque allenamenti consecutivi, lavorando su chiaramente tanti criteri, ma un impatto positivo perché c'è disponibilità. Ho detto ai ragazzi che insomma può capitare perché noi poi facciamo un mestiere che fra quelli che sono stati esonerati e quelli che lo saranno dopo è un giro, è così. Ho detto che insomma si comincia un percorso nuovo e che bisogna anche fare qualche piccolo esame di riflessione, di coscienza su quello che non è stato fino adesso perché prendere coscienza dei problemi già ti porta a risolverli. Quando non acquisisci coscienza dei problemi qualche problema c'è. Questo è un gruppo che complessivamente ha qualità e però queste qualità non le ha espresse fino adesso, non sempre è colpa dell'allenatore. Per cui il primo invito è stato a fare un grande esame da questo punto di vista e fare delle riflessioni interne, individuali e poi dopo dal punto di vista del gruppo toccherà a me avere il compito e la responsabilità di guidarli, però c'è grande disponibilità, ma guai se non fosse così. Luigi Trusio, il mattino, prego. Ciao mister, ben trovato. Che bello rivederti con quello stemma sul petto. Ti volevo chiedere, conoscendoti avrai già visto più di una partita di questa squadra e volevo sapere se ti sei fatto una prima idea, non per assolutamente metterti nelle condizioni di giudicare il lavoro di chi ti ha preceduto, però ti sei fatto un'idea più o meno su quelle che sono potute essere un po' le ragioni, le cause di questo blocco che all'improvviso poi questa squadra ha avuto dopo la buona partenza. In questo periodo in cui sono rimasto fermo, di partite ne ho viste tante, tante DC, comprese anche tante partite del Benevento, perché poi con gli orari sfalsati quello facevo, vedevo partite continuamente, ogni tanto andavo a giocare a Burraco perché ti è inallenata la mente, sono diventato pure bravo a Burraco, però ormai è un discorso chiuso. Vabbè, l'idea adesso, parto da dei concetti generali, qualche problema c'è, questo è un gruppo che ha qualità complessivamente, perché è un gruppo forte per i parametri della categoria e però se questo non è stato manifestato, se si è visto poco, si è visto in un modo intermittente o discontinuo, i motivi li dobbiamo andare a cercare, però serve veramente a poco adesso dirgli e parlare del passato, adesso noi dobbiamo fare un percorso nuovo, ognuno di noi vede il calcio, guai se non fosse così, in un modo personale, cercheremo di dare input ma soprattutto cercherò di valorizzare io e i miei collaboratori le risorse di questo gruppo che sono comunque importanti, poi ripeto, fino adesso non c'è stata questa grande espressione di rendimento, è quello che dobbiamo andare a ricercare, cominciare a giocare da squadra, cominciare ad alzare i ritmi, cominciare ad essere un blocco unico quando difende, quando attacca, avere grande senso di appartenenza, guai se non fosse così e grande rispetto per questa maglia e per la comunità calcistica che noi rappresentiamo e avere la coscienza pulita, poi questo per linee generali, dal punto di vista poi dei dettagli avremo tempo e modo, abbiamo fatto cinque allenamenti, domani mattina faremo il sesto consecutivo, poi sospendiamo il nostro primo obiettivo per quelli che siamo in questo momento e per come siamo, quello deve essere quello del 6 gennaio dove andremo a affrontare una squadra, una pari grado, una squadra che fa il nostro campionato e l'obiettivo è quello, fare la prestazione e avere subito un impatto diverso, perché ripeto ognuno di noi poi ha criteri personali che allena per carità, nessuno è depositario del verbo assoluto, però è chiaro che ci sono delle differenze e quello che noi dobbiamo andare a cercare è questo, l'obiettivo è la partita con la Turis, poi di volta in volta ce ne vorremo altri, ma quelli quotidiani sono avere un'identità forte e importante di squadra. Qua ti volevo chiedere, questo è un gruppo molto folto, ci sono circa 32-33 calciatori, alcuni dei quali nella prima fase, in questa prima fase di campionato, in questo gioco d'andata, insomma alcuni dei quali si sono espressi al di sotto delle loro potenzialità, altri hanno avuto problemi, qualcuno non ha quasi mai giocato per via di infortuni, altri erano con la testa altrove, qualcun altro invece è troppo giovane e quindi non ha trovato spazio, ecco di questi 5-6-7 calciatori che ci sono attualmente, che sono un po' borderline, un po' di qui e un po' fuori e che forse la società immaginava anche di cedere poi, oppure come dire di fargli un discorso, tu immagini di poterne recuperare qualcuno perché immagino che tu stia valutando tutti in questo momento, nessuno escluso? Io, fra virgolette, sono puro e sono vergine perché non vivo di fatti precedenti, amo constatare e vedere con i miei occhi, sono dei giocatori, poi anche questi discorsi qui, giocatori che hanno contratto, che sono sotto contratto con una società, che hanno altre intenzioni di andare via, io francamente li capisco poco perché, allora uno fa una risoluzione, rinuncia a quello che deve rinunciare, ma quando si prendono degli impegni, si hanno dei doveri come in questo caso, quindi quando uno sottoscrive un contratto perché deve fornire delle prestazioni, capisco poco questo non appartenere a un gruppo, a un contesto, a una comunità calcistica, però succede anche questo, ma io sono aperto, voglio soltanto vedere, voglio le dimostrazioni in campo sotto tutti i punti di vista, ma se uno la vive attraverso la propria interiorità, la maglia è, fra virgolette, la professione che fa, è in grado di dare il massimo delle potenzialità o delle qualità che ha, se uno non la vive questa situazione sarà molto difficile, per cui io sono aperto, gli spazi ci saranno per tutti, chi dimostrerà attaccamento, senso di appartenenza, voglia e chiaramente chi avrà qualità, ma ce ne sono tanti in questo gruppo, avrà la giusta ricompensa, avrà i giusti meriti, chi non farà questo è il campo che determina tutto, io non conosco altre ricette, il campo è il giudice unico, le chiacchiere se le porta via il vento, quindi chi poteva fare o chi delega è il campo, siccome sono dei giocatori che hanno qualità, il mio dovere è quello di dare un'identità forte, allora abbiamo appena cominciato, abbiamo appena cominciato, di cose da fare ce ne sono tantissime, perché poi non mi piace neanche mettere in campo una squadra che non abbia chiare tutte le situazioni che si possono sviluppare o determinare in una partita, per cui di cose da fare ce n'è, ma intanto cominciamo a pensare tutti quanti insieme all'obiettivo del 6 gennaio, perché si ricomincia, io da questo punto di vista sono aperto, non vivo di preconcetti, vivo di quello che vedo e voglio vedere quotidianamente le cose che ho detto prima, poi siccome ci sono anche delle qualità, tutto è una logica conseguenza. Maio, la Gazzetta dello Sport, prego. Mister Bentornato, volevo chiederti quando il presidente Vigorito ti ha chiamato per chiederti di venire, se ti aspettavi questa chiamata e che cosa ti ha chiesto? Mi aspettavo, ci speravo, ho avuto tante altre situazioni che non ho tenuto conto, vabbè è normale, insomma a me per la prima volta nella mia carriera mi è capitato di stare fermo così tanto tempo, anche per mia scelta. Beh questo è un posto a cui io sono affettivamente legato, poi dopo quella stagione un piccolo nodo in gola, un po' anomalo, mi era rimasto il presidente, ma non mi piace fare il ruffiano perché se dico una cosa è perché la sento interiormente, la vivo veramente dentro, se farei a meno di dirla, ho un grande rispetto, è una grandissima persona, vabbè ma non lo dico io, e questo fatto di potergli essere utile, lui perché il rappresentante e diciamo la proprietà di questa società e indirettamente a tutto il contesto e quindi a tutta la comunità calcistica mi ha fatto emozionare, ecco quindi questo è proprio quello che in quel momento ho vissuto, mi è stato detto una cosa, io mi sono immediatamente catapultato perché voglio dire, la porta era già aperta, non avevo bisogno di riflettere o di fare, sono emotivamente, interiormente orientato a questo contesto, vabbè i motivi li sapete, abbiamo fatto una stagione un po' particolare ma poi bella, è perché non proseguire il lavoro. Tu hai lasciato il ricordo di un vincente chiaramente perché quella stagione è stata straordinaria, quindi se non ti ripeti c'è il rischio di un fallimento, non ti è passato neanche per un attimo per la testa e dire ma chi me l'ha fatto fare? Ma facendo questo lavoro se uno comincia a pensare così, ogni tanto si può fare, vedi spalletti no, è un esempio, uno fa delle analisi, fa delle riflessioni, però no, io no perché i motivi li ho appena descritti prima, perché paura, paura di che, quello che appartiene al passato per me rimane perché rimane scritto, però è finito, veramente è finito, si resetta tutto perché poi, amo pensare all'immediato presente e al futuro che deve venire, il passato conta poco, tu puoi avere il sito dei meriti, ma nel mondo del calcio un minuto dopo si perdono, conta quello che è, quindi l'immediato presente è quello che deve avvenire successivamente, quindi non ho questo tipo di pensieri, mi concentro sul lavoro, sul dare un'identità forte a questa squadra, sul valorizzare le risorse che ho a disposizione e sul lavorare tutti quanti insieme. Massimiliano Mogavero, il segno quotidiano, prego. Salve mister, bentornato anche da parte mia, a proposito del passato ci sono due protagonisti indiscussi di quella straordinaria stagione, sono Marotte e Ciciretti, le chiedo dall'impressione di questi primi cinque allenamenti, che contributo potranno dare alla causa in questa stagione e poi le chiedo, lei al termine di questa annata si riterrà soddisfatto se, quale obiettivo si è fissato, non parlo in termini di classifica, in termini numerici. Parto dalla seconda parte della domanda, mi riterò soddisfatto se faremo partite giocando da squadra, vera, sotto tutti i punti di vista, è una partita di calcio, sono momenti in cui devi saper difendere, come blocco di squadra, devi saper attaccare, devi saper essere propositivo, devi essere, fra virgolette, un concetto generale organizzato. Se noi riusciremo con continuità ad esprimere bene all'interno di ogni gara che andremo a fare, questi concetti qui, se vivremo il nostro lavoro con grande, lo ripeto, senso di appartenenza e con grande rispetto verso la maglia e che quindi saremo predisposti mentalmente a dare il massimo e perché no, a volte dal punto di vista motivazionale andare anche un pochino oltre non guasta, se noi faremo questo di conseguenza faremo anche i punti e quindi poi adesso forse degli obiettivi, parlare, partite, mantengo una media punti, non serve, sarebbero chiacchiere e inutili, manteniamoci su quei concetti, lavoriamo forte, lavoriamo con grande attenzione, grande consapevolezza, cerchiamo di migliorarci tutti quanti insieme, se fino adesso c'è stata qualche carenza facciamo in modo di svoltare e di cambiare tipo di atteggiamento, allora sarà tutta una conseguenza, se noi faremo questo faremo anche le prestazioni, legittimeremo le vittorie, ecco, legittimare le partite è un fatto molto importante, se tu acquisisci meriti in campo e le partite le vinci attraverso la legittimazione della prestazione sei destinato a durare, se le fai in un modo estemporaneo perché magari vinci col tiro sbilenco della domenica da 30 metri ma poi subisci l'avversario in tutto e per tutto e una volta puoi vincere perché magari ti dice bene, allora perseveriamo e andiamo alla ricerca dell'identità forte di squadra, perché all'interno di un'identità forte poi le risorse si valorizzano da soli e in questo gruppo ci sono giocatori che hanno risorse importanti, Marotta? Da bene, non parliamo, Cicirette è un giocatore forte ma che negli ultimi 4-5 anni ha giocato quasi mai, io sono aperto con tutti, le scienze le avranno tutti ma prima voglio le verifiche in campo, per cui Cicirette si ha questa voglia di verificarsi quotidianamente dentro e fuori dal campo avrà spazio, viceversa no, ma lui come tutti gli altri. Augusto Serino, Anteprima 24, prego. Salve mister, bentornato, due curiosità, al di là dell'obiettivo del 6 gennaio, nel frattempo aprirà anche il mercato, lei ha già un'idea di come far giocare il suo benevento e se magari c'è stata già qualche richiesta per rinforzare questo gruppo e poi una curiosità sul campionato, ha detto che ha visto tante partite, come lo giudica questo campionato? Questo campionato è il solito campionato, squadre forti, organizzate, dove l'aspetto temperamentale, dove l'aspetto organizzativo di una squadra, dove l'aspetto agonistico, dove la capacità di saper difendere tutti insieme, di sapersi proporre in avanti tutti insieme e determinante. Le squadre che stanno davanti fanno questo bene, con continuità, quindi sono aspetti molto importanti. Per quanto riguarda il mercato dovete, è un po' presto, io non amo, voi lo sapete tanto parlare di mercati, sono dei ruoli, a me piace il campo, poi c'è la società, c'è il direttore, ci sono quelli dell'area scouting, mi tocca soltanto stabilire dei criteri, non amo tanto parlare di mercato, ci sono dei giocatori che hanno, l'ho detto già prima, che hanno qualità importanti, però le cose bisogna viverle, questa è una parte fondamentale, se non si vive una cosa non vai da nessuna parte, se tutto ti scivola addosso possono venire 200 allenatori, puoi avere 200 input diversi, ma ottieni poco, perché bisogna avere la capacità di entrare nella pelle dei giocatori, ma loro devono essere permeabili, perché se non sono permeabili e quindi disponibili. Dominico Cassaro, Lab TV, prego. Salve mister, buonasera e bentornato, siamo molto felici di rivederla. Parto con una battuta in realtà, perché prima ha citato Spalletti, ma in realtà forse Gaetano Oteri già sette anni fa circa ha fatto come Spalletti a Benevento, e quindi le chiedo se magari rispetto a quel tempo si sente anche di aggiungere qualcosa, perché poi di acqua sotto i ponti ne è passata. Ma io non... E poi, glielo chiedo dopo, prego, prego, prego. No, no, mi scusi, mi scusi, vado, vado, vado. No, no, l'altra domanda invece era, guardando invece al presente, perché forse lei non è proprio diciamo il prototipo dell'allenatore che entra in corsa. In settimana abbiamo sentito un calciatore che insomma ha conosciuto molto bene, come Fabio Mazzeo, che ci diceva che Oteri riesce a cacciare fuori il 150% dei giocatori, ma ha bisogno, soprattutto in così poco tempo, che i giocatori gli diano fiducia totale e si affidino totalmente ad Oteri. Le chiedo se ha avuto questa percezione da tutto questo gruppo che ha a disposizione. Grazie. Ma più o meno sono le cose che si incontrano quando si allena, quando si allena un gruppo nuovo oppure quando si allena anche un qualsiasi altro gruppo. I giocatori ormai, tanti sono esperti, voglio dire, hanno delle esperienze, ma anche quelli più giovani, diciamo che questa consapevolezza si è evoluta, ti pesano, per cui loro capiscono chi hanno di fronte, per cui entrare nelle loro teste, nella loro intimità e quindi metterli anche nelle condizioni di dare il massimo delle qualità che hanno è determinante, ma dico anche delle cose banali. Poi la prima parte della domanda, vabbè adesso è passato un po' di tempo, io non sarei mai voluto andare via, però poi i fatti di quel momento mi hanno portato, è inutile andare lì a ripetere, conta veramente poco. Subentrare, è la prima volta che mi capita di subentrare, però vi garantisco con un pizzico di presunzione che quando uno ha conoscenza, io penso di avere conoscenza anche se mi metto continuamente in discussione, attraverso l'esperienza e la conoscenza si riesce a dosare il tutto. L'ho detto prima, è vero che non mi piace mettere in campo una squadra che possa improvvisare al momento delle situazioni per cui di tempo non ce n'è tanto. Abbiamo cominciato un percorso, non è che lo finiamo il 6 gennaio in previsione della partita, abbiamo cominciato un percorso insieme che dovrà avere un crescendo continuo. Dai punti di vista che vi ho descritto prima, poi i risultati sono sempre la logica conseguenza dell'atteggiamento o di come ti proponi in allenamento. Cosimo Calicchio, tutto Benevento, prego. Buonasera mister, bentornato. A noi ci siamo lasciati in festa, no? L'ultima volta. Cosa aveva quel Benevento di sette anni fa e se questo Benevento che sta cominciando ad allenare, cinque allenamenti sono pochi però ha visto tante partite, se lei crede che caratterialmente possa incarnare qualcosa di quella squadra poi vincente che ha lasciato sette anni fa? Lei dice che ci vuole caratteri... Perché poi non mi piace tanto ritornare indietro, veramente conta l'immediato presente e quello che dovremmo andare a fare. Quello era un gruppo che, diciamo, il giorno d'andata c'erano delle dispersioni, per una serie di motivi che non serve adesso andare... Nel momento in cui quelle dispersioni si sono terminate, quello è stato un gruppo che, siccome aveva identità forte di gioco, siccome è un gruppo che stava bene, ma anche nel giorno d'andata, quando abbiamo fatto i punti, quando abbiamo finito a sette punti dalla prima... E noi siamo sempre partite importanti. Non c'era questa coralità e questa grande intenzionalità da parte di tutti a fare bene. Nel momento in cui il gruppo si è limato, si è anche mentalizzato su un certo aspetto. Siccome stavamo bene, ed era una squadra forte, e forse anche ben allenata, siamo andati bene. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Essere all'unisono, tutti quanti insieme, senza dispersioni, senza, come posso dire, senza avere la voglia di soddisfare soltanto i bisogni individuali. I bisogni sono quelli del gruppo, si parla di squadra, si parla di collettivo. Quindi gli obiettivi sono comuni. Certo che l'individuo o le caratteristiche di alcuni giocatori devono essere esaltati, ma si esaltano all'interno dei concetti di squadra. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è trovare questa unità di intenti, ma è il minimo che possiamo fare. Perché poi siamo pagati e facciamo questo lavoro per questo e dobbiamo rendere conto. E ciò che dobbiamo fare è quello di produrre. Claudio Donato, Pianeta Azzurro. Salve mister, bentornato. Mister, volevo chiedere un dato, per quel poco che hai avuto di tempo e che hai avuto modo di vedere. Questo calcio così definito moderno, dove la riaggressione, il recupero palla in pochi secondi la fa un po' da padrone. Questo Benevento, dal punto di vista atletico, che impressione le ha dato? Ma in quattro giorni non è facile, è un gruppo ben allenato, poi non è sicuramente un gruppo che è, poi chiaramente che all'interno di un gruppo c'è qualcuno che è un po' più indietro dal punto di vista fisico, giocatori che magari hanno avuto qualche problematica, non lo so, vedi ciciretti che si sono fermati, eccetera. Questo è tutto abbastanza normale, però a questo punto del campionato le squadre sono tutte allenate, perché poi comunque sono le partite che ti portano. La parte fisica non conta tanto adesso, più o meno c'è uniformità a questo punto del campionato, perché poi le partite fra chi si allena bene e chi, fra virgolette, meno bene, le partite ti portano ad avere una condizione ottimale, nel concetto generale, se c'è qualche giocatore che si ferma o che non ha avuto continuità di lavoro perde, dal punto di vista della forma, qualcosa. Conta questo aspetto fisico dopo, da marzo in poi, e conta precedentemente, settembre-ottobre, quando si arriva a questo punto del campionato, la componente fisica. Non è questo il nostro problema, anzi è una squadra ben allenata. Sicuramente ha delle tattiche, ma è disposto nell'eventualità a disporre anche una difesa non a tre? Ma noi possiamo fare tante cose, lo sai qual è il fatto in questo momento? Che l'obiettivo nostro è quello del 6 gennaio, è che Caric e Talia sono squalificati, se fate un po' il conto, abbiamo le scelte in questo momento proprio numericamente contate in mezzo al campo. Da quello un po' dipende tutto il resto, ma io sono aperto, il mio dovere è quello di valorizzare le risorse di questo gruppo, le caratteristiche e le qualità migliori del gruppo, non è quello di imporre le mie idee. Per fortuna, lo ripeto, con un po' di presunzione, un po' di conoscenza, un po' di esperienza ce l'abbiamo, per essere in grado di fare anche altre cose e non aspetti consolidati. Quindi sono duttile, elastico, però si parte da alcuni concetti che sono quelli che vi ho descritto, è proprio un fatto numerico, se fate un po' la conto non ce ne sono tanti altri, quindi da quello dipende un po' tutto il resto. Ma una squadra che può giocare anche in altri modi, certamente. Però un filo conduttore adesso iniziale lo dobbiamo avere, poi potranno cambiare anche i numeri in campo, ma la nostra deve essere sempre un'identità forte. I numeri, come stai in campo, 3, 4, 5, 18, sono numeri, il calcio non è statico, il calcio è il movimento perpetuo e continuo, per cui i numeri che definiscono un sistema, un modo di stare in campo, sono soltanto una definizione, poi le cose cambiano in campo. Roberto Corrado, Cronache del Sannio, prego. Mister, buonasera e bentornato. Pongo l'attenzione su un singolo, Simonetti, che ritengo insieme a Berra sia stato il migliore acquisto del mercato estivo del Benevento. Peccato, però, che si sia fatto male troppo presto. Berra, finalmente, chiedo scusa, Simonetti, finalmente è a disposizione e nel 3-4-3, è vero che lei ha detto poc'anzi che non le piace parlare di numeri, però nel 3-4-3 di Auteri, Simonetti è un giocatore che può risultare utile sia da esterno di centrocampo che da esterno offensivo nel tridente? Io penso che Simonetti, che dovrò imparare a conoscere meglio, ma che è un giocatore che mi piace, ma che è riduce anche da un problema fisico, che fortunatamente ha superato, le sue qualità migliori siano quelle prettamente offensive, prettamente propositive. Poi dopo è un giocatore che è in grado anche di fare altre cose, perché si gli chiede i rientri, eccetera, le coperture. Scusate, può fare anche altri ruoli. Però io preferisco sempre mettere i giocatori in campo nella loro parte migliore, nelle loro caratteristiche migliori. Perché impiegare dei giocatori e costringerci a fare delle cose in cui in qualche modo un po' di qualità le disperdono, delle loro qualità migliori e quindi è un giocatore che io vedo, al di là del 3-4-3, dei 3 davanti, 2-1, perché non 4, dipende. Ho detto siamo tutti, li vedremo un po' l'evoluzione delle cose. È un giocatore che ha qualità offensive, io così intendo impiegarlo ed è un giocatore che mi piace. Oreste Tretola, il mattino online, prego. Buonasera mister, bentornato. Anche io in settimana ho avuto il piacere di sentire Fabio Mazzeo e da ex attaccante gli ho chiesto se secondo lui con l'arrivo di Auteri si potesse risolvere il problema del rendimento offensivo che è stato un po' il principale problema del Benevento. Lui mi ha risposto, sono sicuro che il mister lo risolverà. Quindi le rigiro la domanda. ha visto un po' di partite, mi ha detto che questa squadra ha qualità. Qual è il problema? Perché il Benevento ha fatto fatica almeno finora a segnare sia in casa ma soprattutto in trasferta? Fabio è un po' di parte, per cui lo accettiamo, lo prendiamo come stimolo. Ci sono dei giocatori importanti davanti qui. È chiaro che fino adesso non c'è stata questa grande continuità di rendimento. dobbiamo andare alla ricerca. Poi il mio compito è quello di legare le parti, di dare un'identità, lo ripeto, forte a questa squadra e di attaccare tutti insieme, di difendere tutti insieme. Per cui il gol poi magari materialmente li fanno gli attaccanti perché sono quelli che giocano davanti, perché sono quelli che hanno determinate caratteristiche, sono più risoluti. Ma noi dovremmo migliorare tutti questa partecipazione al gioco offensivo assieme al fatto di mantenere sempre gli equilibri dal punto di vista difensivo. Quindi ritorno a dire sempre le stesse cose. Ci sono dei giocatori che hanno qualità e che per adesso le hanno espressi poco, poco. Ma anche Ferrante è un giocatore che ha qualità importanti per la categoria. Non è facile andare a trovare gente potenzialmente migliore di quelli che ci sono qui. Credetemi, non è semplice. Parlo di giocatori che appartengono a questa categoria. Per cui lavoriamo tutti insieme. Il gol manca. Cominciamo a non pensarci, cominciamo a giocare da squadra, cominciamo a crearle le opportunità per fare gol da squadra tutti insieme. Poi dopo se le creeremo saremo in grado anche di realizzarle. Giovanni Chiusolo, Info, Sanio News. Prego. Mister, buonasera. Mi riallaccio a quello che ha detto prima, al fatto che saranno squalificati Caric e Tavia per il prossimo incontro. Abbiamo visto in queste partite che, malgrado tutto, gli arbitri non sono proprio una cosa eccelsa, mentre l'agonismo delle squadre è fin troppo forte. Come si fa a un calciatore a dire di mantenere lo stesso agonismo degli avversari, chiamandolo così e non come scorrettezze, e però restare calmi poi di fronte a un arbitro che interpreta le cose in maniera completamente sbagliata? Bisogna imparare a fare, perché gli arbitri, tra l'altro non ne voglio neanche parlare, ma sono delle variabili, ma niente, si rispettano le regole, ci si concentra come sempre sui principi di squadra, è nelle difficoltà che ti devi attaccare ai principi di squadra. Se ce li hai e sono ben consolidati, non vai, puoi andare anche in difficoltà, ma non vai nella difficoltà totale, ecco, non sprofondi, perché hai sempre qualcosa a cui attaccarti e sono i criteri e i principi di gioco, i principi di squadra. È quello di cui noi dobbiamo andare alla ricerca, cominciare a ragionare veramente in questo senso, e poi veramente le caratteristiche degli individui, dei singoli, saranno esaltate. Cominciamo a essere continui, costanti, martellanti, nel non possesso, disponibili a difendere tutti quanti insieme, intraprendenti e propositivi nel momento in cui ci proponiamo nella fase offensiva, sempre con i giusti equilibri. Cominciamo a fare questo, cominciamo a farlo ad alto ritmo, cominciamo ad allenarci forte, quotidianamente, viviamo la nostra professione anche fuori dal campo, allora così si creano i contesti di gruppo, i contesti di squadra. Edoardo Porcaro, IlSannita.it, prego. Bentornato Mister, le chiedo delle difficoltà che ha avuto la squadra prima di lei, se queste difficoltà possono dipendere a suo giudizio anche da qualche giocatore magari schierato fuori luogo, cioè fuori posto, e le chiedo anche dei giovani che stanno in rosa che hanno avuto poco spazio, come ad esempio Carfora, se lei ci punterà. Ma vabbè, sul prima non voglio parlare, ma perché ho un grande rispetto, non mi permetto di dire che qualche giocatore è stato schierato fuori loro, ma non credo proprio, assolutamente, cioè ognuno di noi vive la propria squadra e la conosce profondamente. I giovani sono sempre stato aperto ai giovani, quindi per me conta il campo. Poi è chiaro che in alcuni momenti come questo, un po' mentalmente, tra virgolette, moralmente, un po' difficile, dove devi vivere di più la situazione dal punto di vista della componente mentale e nervosa, i giovani li devi in questo momento dosare, voglio dire, non gli devi attribuire grandi responsabilità, fanno parte di un contesto, ma io sono aperto ai giovani, per me il campo è quello che conta e i meriti che si acquisiscono in campo, non le presenze che uno ha fatto o quante partite ha giocato, la carriera, la carriera conta poco, il campo è il giudice, il campo è il giudice unico. Gianluca Napolitano, Corriere del Pallone, prego. Buonasera, mister, ben ritrovato. Io mi volevo soffermare un attimo, non voglio parlare di tattica perché penso sia abbastanza prematuro, lei ha parlato di senso di appartenenza, un qualcosa che probabilmente negli ultimi anni alle varie squadre del Benevento è mancato un po', quest'anno si è visto un po' a sprazzi, ecco, come pensa lei di inculcare questo senso di appartenenza a chi semmai ancora non si sente questa maglietta addosso come dovrebbe? E poi, faccio un'altra domanda così lascio il microfono, per quanto riguarda questa squadra aveva, diciamo, dal vecchio allenatore, quattro capitani, volevo capire la sua idea in futuro per quanto riguarda appunto la fascia che so che lei è una cosa a cui ci tiene molto. Quattro capitani non ci ho pensato, cioè il capitano, non lo so, possono essere pure tanti, io mi augurerei che in una squadra di capitani ce ne fossero 20 perché i capitani sono quelli che danno l'esempio, quelli che sono attaccati a un progetto, a un contesto, quelli che stanno sempre al massimo, quelli della motivazione, quelli che hanno un insieme di cose, quindi il capitano poi uno lo mette in partita, la fascia, perché uno ce ne può essere, uno che è quello delegato anche ai rapporti con l'arbitro, quindi io mi auguro di averne 20 di capitani, vuol dire che avranno veramente, sicuramente dal punto di vista del lavoro, un'attenzione, una consapevolezza importante. La prima parte della domanda, mi scusi, me la ricordi? Ma senza di quello non si va da nessuna parte, cioè nel passato non lo so, c'è stata gente che non ha vissuto, forse sono anche un po' le categorie che si fanno, il calcio purtroppo da questo punto di vista è cambiato in peggio, si pensa più a soddisfare i propri bisogni individuali, che non invece ad avere, non lo so, stima e rispetto verso le tifoserie, verso le proprietà, eccetera, a volte si vive più di apparenza che di sostanza, quindi quello che è capitato, avendo il Benevento fatto categorie più alte, diciamo che è quasi un fatto fisiologico, perché il calcio è cambiato, perché non si vive più come prima, con la coscienza di come si dovrebbe vivere invece, e quindi, ma noi facciamo un'altra categoria, guai, se ci mancasse questa consapevolezza, e questo non avere rispetto verso un gruppo, verso dei compagni, verso, ripeto, verso la tifoseria, verso la proprietà, verso ogni aspetto che riguarda la squadra di calcio, noi rappresentiamo un ambiente calcistico, mi piace definire la comunità calcistica, ecco, e quindi dobbiamo avere grande rispetto, guai, se non fosse così, io darò l'esempio, quindi, mi auguro che, che sia seguito da tanti, ma ne sono sicuro. Luigi Trusio, il mattino, prego. Solo per dirti che, quando c'è un esonero, non è mai un momento bello, lo diceva prima il direttore, la squadra sta attraversando una fase particolare, possiamo dire però che, la tua venuta, in qualche modo, crea un pochino di credito in più, rispetto a qualunque altro allenatore, probabilmente, si sarebbe seduto su questa panchina, ed è inevitabile. Questa cosa, funge da stimolo per te, o ti fa sentire, maggiormente responsabilizzato? A me tantissimo, perché, perché questo è un ambiente che mi piace, inutile che vi ripeto le cose che ho detto, ed è questo quello che cercherò di trasferire io, poi ho il dovere di dare degli input a questo gruppo, di farli lavorare quotidianamente per crescere, grandi e giovane, perché c'è sempre l'opportunità di crescere, perché nessuno di noi arriva a una soglia in cui ha finito di apprendere o di imparare, c'è sempre da da prendere, da tutto, da qualsiasi aspetto, per cui, da questo punto di vista, dobbiamo lavorare in sintonia, non lo so se io ho più credito, veramente non ci penso, poi, conta il campo, e ripeto, i giocatori ti pesano, perché ormai, non è come una volta in cui non c'era grande consapevolezza, ormai i giocatori sono consapevoli tra le partite che si vedono a tutti i livelli, c'è calcio dappertutto, fra le esperienze che hanno fatto, fra quelle che hanno sentito dire, poi ti pesano quotidianamente in campo, e quindi capiscono la valenza, io questo credito non me lo sento, so che lo devo dimostrare continuamente, e lo devo acquisire da parte loro, ma così come loro lo devono acquisire da parte mia, e ripeto, il campo conta, restano chiacchiere.